sei troppo bella io mi chiamo etienne perché vuoi fare l'attrice hai visto le mie gambe ho sentito che sprecavo la mia giovinezza musica oggi siete 40 alla fine dello stage sarete 12 ci hanno presi tutti cioè questo è il centro dell'europa teatrale patrice cero è il direttore del teatro conta il lavoro che si fa non la presenza in scena io voglio solo fare dei film e guadagnare soldi comunque non me ne frega niente di questa scuola una delle ossessioni per molti dei personaggi dell'opera è la giovinezza che fugge è normale che tocchi la figa della mia donna non è un passatempo recitare è pericoloso del difficile e della vita che voi dovreste rappresentare sapete a volte ho l'impressione di essere sull'orlo dell'abisso lo sai che sono pazzo o torniamo a casa piangendo o attraversiamo quella piccola porta là e proviamo a recitare ci proviamo perché perché è quello che sappiamo fare grazie a tutti Grazie a tutti.